Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Rischia di soffocare durante un pranzo al ristorante salvata da un'infermiera fanese in vacanza in Molise A Fano un'automobilista in veste una turista tedesca e poi si dà la fuga, denunciato Lo spettacolo delle lanterne nella notte dei desideri Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera, ben ritrovati a questa edizione di Occhio Occhio alla Notizia Cominciamo dalla cronaca Un 68enne fanese nel pomeriggio di sabato scorso intorno a mezzogiorno e mezzo è stato protagonista di un incidente stradale mentre percorreva la Statale 16 in direzione Senigallia ha investito una ciclista tedesca che percorreva l'Adriatica nella stessa direzione Dopo l'urto ha scaraventato la donna nel fosso ed è scappato facendo perdere le proprie tracce agli agenti della polizia locale però i testimoni hanno detto che si trattava hanno descritto il veicolo che si trattava di una panda vecchio modello di colore bianco il pirata della strada però nell'impatto, nell'urto ha lasciato a terra un pezzo della carrozzeria un particolare che ha permesso grazie ad un'attività di controllo investigativa ai vigili urbani di risalire all'autore e all'investitore grazie anche ad una telecamera situata sul Ponte Metauro grazie a quella telecamera i vigili hanno ripercorso controllando gli orari compatibili al momento dell'incidente hanno rintracciato questa panda questa panda in transito verso Senigallia e poi la stessa tornare a Fano senza il pezzo incidentato che è rimasto come dicevamo sul luogo dell'incidente un rapido controllo del database ha portato all'individuazione del responsabile che è stato denunciato a piedra libero per omissione di soccorso e fuga la donna invece è stata soccorsa dai sanitari del 118 trasportata all'ospedale di Pesaro per le contusioni che ha riportato nella caduta ma se la caverà in pochi giorni e adesso invece andiamo in Molise dove nella giornata di Ferragosto una infermiera fanese che si trovava in vacanza in una località appunto di quella regione ha salvato possiamo dire così la vita ad una donna mentre era al ristorante perché? perché questa signora stava soffocando vediamo alle volte gli angeli sono tra noi e non lo sappiamo l'angelo di questa storia si chiama Maria Letizia e veste una divisa una divisa blu quella da infermiera e lavora al Santa Croce di Fano è il giorno di Ferragosto Maria Letizia si trova a tavola in un ristorante di Campo Marino Lido in provincia di Campobasso assieme ai parenti per il pranzo così come sono lì i parenti di Anna Pompea sono attimi decisivi e delicati Maria intuisce subito con la sua esperienza che qualcosa al tavolo vicino non va per il verso giusto e poco dopo si rende conto che la situazione sta precipitando Anna Pompea non respira ha ingoiato qualcosa gli dice convulsalmente la figlia e i gesti eloquenti dell'anziana signora gli fanno capire che ha le vie respiratorie occluse e così decide di agire di agire come sa e come i corsi e i dieci anni in rianimazione gli consentono di fare la signora aveva ingerito un alimento e non riusciva più a respirare la signora non riusciva a parlarmi la invitavo a tossire non ci riusciva a quel punto ho invitato i parenti ad aiutarmi ad accompagnarla fuori all'esterno ho iniziato diciamo a intraprendere tutte le manovre di Emlich quindi con le cinque compressioni diciamo sul diaframma a quel punto però la signora ha perso conoscenza l'abbiamo aiutata ad adagiarsi a terra e di nuovo ho provato con le manovre di Emlich senza beneficio a quel punto ancora la signora non era in arresto cardiaco e ho proseguito le manovre con la respirazione bocca a bocca e diciamo dopo la terza insufflazione mentre io stavo ispirando per effettuare la quarta la signora ha espulso il corpo estraneo che era un bolo diciamo abbastanza grosso e a quel punto l'ho posizionata in decubito laterale sinistro nella posizione di sicurezza piano piano e ha ricominciato a respirare l'ho invitata alla calma che ero lì che si stava riprendendo che di lì a poco l'avrei fatta sedere e pian piano ha riacquisito il suo colore perché era diventata cianotica bluastra ringrazio l'azienda per darci queste opportunità di formazione continua e permanente che lasciano un'impronta proprio anche a livello emotivo nel voler fare e la motivazione giusta insomma abbiamo capito lo scopo del nostro operare quotidianamente sia all'interno del presidio che magari al di fuori anche quando siamo all'esterno tra diciamo altre persone noi lavoriamo per la vita e quindi nel caso in cui ci siano delle situazioni di pericolo non possiamo non intervenire al di là che fa parte anche del nostro dovere ma è anche una cosa alla quale non si può rinunciare e la soddisfazione grande è quella di sapere che Marche Nord investe molto nella formazione personale e vedere che questa formazione poi non rimane un qualcosa fatta in aula ma che diventa un qualcosa da poter spendere anche per tutte le situazioni che non sono professionali e quindi una grande soddisfazione e lo credo bene e adesso invece parliamo di quel maxi sequestro di marijuana quasi due tonnellate perché nei giorni scorsi in città non si parlava d'altro due quasi due tonnellate di marijuana dicevo sequestrato a bordo di un di un gommone proveniente dall'altra sponda dell'Adriatico sabato mattina abbiamo partecipato alla conferenza stampa con il procuratore Palumbo se le quasi due tonnellate di marijuana fossero finite sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato la bellezza di 18 milioni di euro uno sgambetto non da poco ai trafficanti di droga che la polizia di stato ha fatto con il blitz sulla spiaggia alle foci del metauro nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana un lavoro investigativo portato avanti dalle questure di Ancona e Pesaro di grande spessore dove la sinergia delle due questure è stata di fondamentale importanza per la riuscita del blitz il risultato brillante di questi giorni dimostra come il lavoro assiduo intelligente della polizia di stato ha i suoi frutti risalendo da dei sequestri avvenuto in qualche tempo fa sia a Durazzo sia nel porto di Pesaro ci ha quasi costretto ad investigare in modo più analitico nella nostra zona soprattutto nella zona costiera di Fano Marotta e la foce del Metauro quindi questo risultato investigativo e questa collaborazione con le altre squadre mobili ripeto ha portato questo risultato veramente brillante e poi apre uno scenario di investigazione a chi era diretta come veniva distribuita chi sono altri personaggi che ci sono dieti sono solo i corrieri quindi diciamo si apre un lavoro enorme adesso e che riguarda soprattutto il nostro territorio come ha tenuto a precisare il procuratore capo della Repubblica Manfredi Palumbo nella conferenza stampa di sabato mattina nella quale sono stati resi noti tutti i particolari di questo maxi sequestro da record per le marche si registra un cambiamento nelle rotte della droga verso le coste marchigiane dall'Albania paese d'origine di questo traffico la costa marchigiana si presta molto perché c'ha dei canneti c'ha delle zone dove l'imbosco l'approdo e l'imbosco è anche molto facile e anche il trilevo della merce i destinatari è tutto il centro Italia dalle sigle che si sono state si vedono qui sulle sulle balle di di Marivana c'è destinazione Perugia Verona e Bologna qui c'è una base molto forte della criminalità albanese molto attiva non soltanto in questo settore ma anche in altri ma perché sono state scelte proprio le coste marchigiane e perché fanno non solo per gli aspetti morfologici del territorio ci sono altri aspetti che devono essere ancora chiariti forse un basista nella zona o un posto sicuro dove stoccare tutto quel quantitativo di droga dagli oltre 20 agenti presenti sul posto sono stati arrestati due albanesi residenti stabilmente a Fermignano che tentavano di allontanarsi con un furgone già pieno delle balle di droga 90 ritrovate in tutto che già recavano sopra i luoghi di destinazione e altri tre componenti beccati in flagrante si dà la caccia inoltre ad un sesto già identificato dalle forze di polizia il tutto fa pensare ad una organizzazione e una pianificazione meticolosa di questo traffico gli scafisti infatti erano dotati di un disturbatore di frequenze per non farsi beccare nelle comunicazioni e sulla costa sono stati ritrovati oltre mille litri di carburante che sarebbero serviti per abbeverare gli oltre 400 cavalli dei motori del fuoribordo cosa che fa supporre che altri inattanti appoggio fossero a largo da dove il gomone poi faceva la spola con la costa la costa fanese che da tempo è sotto il monitoraggio degli uomini del commissariato di Fano che hanno preso parte attiva in questa operazione anche con numerosi controlli di persone e luoghi evidenziando un'attività sospetta di persone di questo territorio un importante risultato su Fano frutto della collaborazione tra le squadre mobili di Pesaro e Dancona il contributo del commissariato proprio in termini di controllo del territorio in termini di supporto poi che è stata data tutta l'attività investigativa svolta da questi due importanti uffici uffici investigativi che dimostra proprio come come su Fano siano presenti naturalmente interessi interessi criminali ma c'è un'attenzione da parte delle forze di polizia da parte della polizia del stato quindi del commissariato sempre presente a monitorare questo tipo di situazione questo non è che l'inizio conclude il procuratore capo con questa operazione si è aperta una voragine e adesso rimaniamo in mare per parlare di come sono andate le cose durante questo ultimo fine settimana e il giorno di ferragosto perché la guardia costiera insieme con la croce rossa italiana provinciale ha monitorato un po' la situazione il litorale domenica una imbarcazione con un motore in avaria è stata soccorsa davanti al porto di Fano sempre nella giornata di domenica sono stati soccorsi due ragazzi in difficoltà che erano rimasti bloccati ai piedi del monte San Bartolo dopo essere stati recuperati sul litorale dal gommone della capitaneria la giornata di ferragosto ha visto gli uomini impegnati sulla prevenzione in mare con numerosi controlli ai natanti per evitare situazioni dannose e pericolose soprattutto ai bagnanti controlli delle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia della capitaneria che dei volontari proseguiranno anche nei prossimi giorni i volontari chiaramente della croce rossa proseguiranno anche nei prossimi giorni dicevo mentre cambiando completamente argomento si è svolta e si è conclusa nei giorni scorsi un pellegrinaggio nella vicina Santa Casa a Loreto pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi provinciale anche quest'anno è una giornata importante per l'Unitalsi e per tutti coloro che si sono recati a Loreto si si è concluso il nostro annuale pellegrinaggio a Loreto che dura tre giorni e quest'anno è stato particolarmente bello vuoi perché c'è stato l'anno della misericordia ma si è creato anche un clima molto favorevole tant'è che quando siamo tornati alcune signore che vengono con noi da tanti anni mi hanno detto devi andare a dare la notizia e fanno tv perché è giusto dare anche le buone notizie e allora siccome noi siamo un'associazione ecclesiale e il Vangelo è buona notizia sono qui a dare questa bella notizia che eravamo in tanti che il Vescovo è stato con noi tutto il giorno e ha fatto una catechesi al personale molto seguita e molto sentita che c'erano tanti giovani e tanti bambini che hanno reso il pellegrinaggio speciale che una signora in Santa Casa mi ha detto finché posso vengo con le mie gambe quando non posso più sapete dove sto venitemi a prendere ecco queste sono delle buone notizie che ci fanno piacere ci dicono che quello che facciamo è buono ci dicono che l'associazione continuerà perché ha tanti giovani e anche tanti bambini e che c'è un grosso impegno per far sì che il mondo di domani sia migliore di quello presente un impegno anche verso chi soffre verso chi non sta bene verso chi comunque vive una condizione non facile e non agiata certo è un impegno verso i disabili che vengono in numero sempre crescente quest'anno addirittura il numero dei disabili è cresciuto ancora e tutti molto felici tutti ci hanno lasciato con l'impegno di partecipare alle nostre iniziative future e con l'impegno da parte nostra di fare qualcosa per loro che sia oltre il pellegrinaggio che sia oltre il servizio ma che diventi vera amicizia e per fortuna non ci sono giovani che giocano e perdono tempo soltanto con i Pokémon Go e adesso andiamo invece a Torrette dove nel fine settimana c'è stata la notte dei desideri La leggenda narra di corsari che vogliono sbarcare sulle spiagge tra Torrette e Ponte Sasso e di popolani ed abitanti sulle colline che accendono nella notte centinaia di lanterne per spaventarli e che i predoni del mare vista la malparata hanno ben rinunciato al loro intento le leggende si sa portano con loro una parte di verità ed una parte di leggenda ora quale sia nel caso non c'è dato saperlo ma sicuramente sappiamo che la notte dei desideri ed il lancio delle lanterne a Torrette di Fano è stato un grande successo noi siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo la serata magica tra musica stand gastronomici ha visto il coinvolgimento di sette campeggi e degli alberghi della riviera oltre alle 20.000 persone che erano disseminate lungo l'arenile ad aspettare il momento giusto alle 23 il lancio della maggior parte delle lanterne che ha regalato ai presenti uno spettacolo coinvolgente ed emozionante a tutti coloro che si sono dati appuntamento in spiaggia per vedere alzarsi in volo la propria lanterna assieme ad altre migliaia nel cielo cupo della notte non prima però di aver affidato a loro un desiderio col cuore come le stelle noi riflessi sulle onde ci vogliamo come le stelle noi e adesso parliamo di tennis in 3 ore e 12 minuti il brasiliano Joao Susa si è sbarazzato del suo avversario nella finale dell'Adriatic Challenger disputata domenica sul campo centrale del tennis club di Fano il 28enne Carioca si è portato a casa a titolo e monte premi 50.000 dollari dopo aver battuto l'argentino Nicolas Kikker in un 646762 ha detto sono davvero stanco felice sicuramente ma quasi non ho la forza di parlare alla fine il vincitore alla fine di questo entusiasmante ed estenuante match tennistico tantissimo anche il pubblico che ha affollato le tribune sin dal primo giorno di questo torneo dopo di noi c'è uno speciale dedicato alla festa del borgo a Ripalta grazie per averci seguito buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.